Ciao a tutti e benvenuti al quinto appuntamento del blog di Vodafone Andria. Settimana scorsa vi ho parlato della Vodafone TV, la tua TV come non l'hai mai vista. Oggi invece vi parlerò dell'offerta Vodafone più forte di sempre, pensata per te e la tua famiglia. Iperfibra e 4.5G, tutto in un unico pacchetto. Che dire, andiamola a scoprire insieme! Vodafone One è l'unica offerta che ti offre l'iperfibra più veloce di sempre, grazie al nuovo modem Power Station, e una SIM per cellulare con mille minuti, 5G in 4G, internet illimitato sui social e con hotspot incluso. Per di più, ricevi anche una SIM dati con 1GB al mese da utilizzare subito con il tuo tablet, il PC o con il mobile Wi-Fi. Soffermiamoci ora sulla nostra Power Station, il modem migliore di sempre. Più veloce, più semplice e più bello. Capace di garantire una velocità fino a 200Mb in FTTC e fino a 1Gb in FTTH. A differenza di altri modem, raggiunge la massima velocità prevista dal suo profilo, non subisce interferenze di Wi-Fi e grazie alle 7 antenne non deve dividere il segnale con nessuno. Inoltre, grazie all'app Vodafone Station per il tuo cellulare, potrai utilizzare lo smartphone come cordless di casa, gestire e personalizzare il Wi-Fi, accensione, spegnimento, nome rete e password, gestire la rete di casa e i dispositivi connessi, verificare lo stato della linea e risolvere in maniera semplice e immediata eventuali problemi e soprattutto configurare i servizi voce, segretaria telefonica, deviazione chiamata, avviso di chiamata, numero nascosto, notifica SMS e delle chiamate perse. Ma non finisce qui, perché Vodafone One offre una grande possibilità di personalizzazione dell'offerta. Possiamo infatti aggiungere fino a 3 SIM voce con lo stesso pacchetto della principale, oppure, se abbiamo un bambino piccolo a casa, che abbia meno di 15 anni, possiamo aggiungere anche una SIM con 100 minuti, due numeri Vodafone illimitati, 50 SMS, internet illimitato sui social e soprattutto con la protezione bambino. Inoltre, possiamo aggiungere anche le chiamate limitate dal telefono di casa, anche verso l'estero, possiamo aggiungere anche la Vodafone TV, di cui vi ho parlato la scorsa settimana, e anche uno dei migliori smartphone del momento. Bene amici, arriviamo alle conclusioni. Alle famiglie che cercano il meglio della rete, per essere connessi sempre alla massima velocità, e vogliono un'offerta facile da gestire, con tutti i vantaggi dedicati, Vodafone One è quello che fa per voi. Il costo del pacchetto è di 29,90€ al mese, IVA inclusa. Inoltre, fino ad attivazione della rete fissa, avrete subito la vostra SIM voce, che potrete utilizzare ad un costo di 10€ al mese. Ed inoltre, sulla vostra SIM dati, ci saranno ben 15GB al giorno. Il contributo di attivazione, che comprende il modem incomodato d'uso e l'installazione da parte del tecnico, è di 5€ al mese. Per ogni SIM addizionale, avendo il pacchetto uguale a quella principale, il costo è di 10€ al mese. Invece, per la SIM associata al bambino, che prende il nome di Vodafone One Junior, il costo è di soli 5€ al mese in più. Vodafone One è inoltre disponibile sia per i clienti privati, che per i possessori di partita IVA. Vi aspetto settimana prossima per un nuovo appuntamento. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete in tanti. Vi aspetto in negozio in Piazza Embriani 4 ad Andrea per ulteriori chiarimenti. Il futuro ad Andrea è straordinario. Ready? Iscriviti al canale